Abbiamo deciso di partecipare al progetto Distretto Italia perché è un progetto del quale abbiamo bisogno come gruppo, come aziende, perché è il progetto di cui ha bisogno il Paese. Distretto Italia è un grandissimo progetto perché vuole innanzitutto andare a recuperare quelle professionalità che sono fondamentali, necessarie e senza le quali il Paese non può dar corso agli investimenti e agli sviluppi che sono previsti utilizzando le risorse che sia a livello nazionale che l'europeo sono messe a disposizione. Si tratta di professionalità tecniche, operative, si tratta di riposatori di fibra ottica, si tratta di operatori tecnici di settore delle infrastrutture perché abbiamo un grandissimo bisogno di persone che possano coprire questi ruoli e fare questi investimenti. Come gruppo che opera nel settore della mobilità abbiamo anche noi bisogno, abbiamo bisogno per le ferrovie, abbiamo bisogno per l'autostrada, abbiamo bisogno per le attività di servizio su gomma e abbiamo indicato anche noi il nostro fabbisogno che sono oltre 300 persone. Ma il progetto è molto importante perché oltre a mirare e a coprire questi fabbisogni che sono molto urgenti, ha anche lanciato un'attività con le scuole di orientamento perché è necessario che insieme alla scuola, insieme al resto del Paese, riorientiamo scelte e decisioni per far comprendere quali professioni sono importanti, su quali professioni si può investire e di conseguenza anche che tipo di risposta si può dare ai tanti giovani che oggi magari non studiano, non lavorano e non fanno alcun tipo di attività. Quindi un grandissimo progetto di rilancio che guarda al Paese e alle persone.